E quindi vorrei parlarvi di lui, però aspetta, vorrei, non c'è tanto tempo, magari possiamo parlare domani, così mi ispirerò. Vi voglio raccontare di Dio mio Signore, del cielo e della terra, amato tanto l'uomo, perciò ha creato il mondo, e ha insegnato a tutti l'amore più profondo. E quindi vorrei raccontare di Dio, perché la potenza che ha il Signore, sarà felice chi lo ascolterà. E da Dio nasce l'amore, che toglierò che è anche il Signore, sarà felice chi lo ascolterà. Sarà felice chi lo ascolterà.